C'è stato chiesto, ci sembrava giusto e abbiamo detto immediatamente sì. Le persone che hanno bisogno si accettano di entrare in una dimensione anche particolare, la sanare accoglie. Abbiamo accolto tante situazioni e questa è una delle situazioni che ci ha trovato immediatamente disponibili. Con noi ci sono sempre una fascia e una fetta importante di volontari.